Fred Hampton, vicepresidente delle Pampere Nere. Ripetete tutti dopo di me. Io sono un rivoluzionario! Io sono un rivoluzionario! Rischi 18 mesi per furto d'auto e 5 anni per esserti finto un agente federale. O potresti andartene a casa. Le Pantere Nere ora formano la coalizione Arcobaleno dei fratelli e sorelle o prezzi di ogni colore! Il loro scopo è seminare odio e spargere terrore. Riparerò tutto quello che posso. Quelli non sono terroristi. Vuoi ammazzare un liberatore, non la liberazione! Vuoi ammazzare un rivoluzionario, ma non la rivoluzione! Ammazzare chi lotta per la libertà, ma non la libertà! Io sono un rivoluzionario! Io sono un rivoluzionario! Io sono un rivoluzionario! Morirò per il popolo perché io vivo per il popolo! E vivo per il popolo perché io amo il popolo! Io sono un rivoluzionario! Questo è un rivoluzione! E vivo per il popolo perché lui mi piace! Grazie.